Sono a live, allora faccio vedere le novità che ci sono, c'è questa borsa picnic a 15 euro molto carina, questa tipo da una coplaiera questo è il sdraio, la spiaggia, è come una borsetta, è carino è enorme, è una specie di tappeto perdona, lo dobbiamo riempire Questa è un pochettino, c'è i maglietti Maglietti tecniche A 8 a 9 euro Pantalone qua A 20 euro Questa è un ragazzo Costumi da bagno a 4 euro Questa è un pochettino 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 guarda qualcosa che si gonfia io me lo metterai in balcone l'ombrellone 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 il colore il colore per gonfiare Questa è la nostra viaggia oggi, non ne ho bisogno uno, 70 euro, queste sono le misure, sono 3 metri per un metro e cinquanta, i quali giorni completo, non ne ho bisogno, non ne ho bisogno, non ne ho bisogno. La nostra viaggia oggi è stata una nuova, giusta, in condamniamo la procedura, non ne ho bisogno di più, ma non ne ho bisogno di più, se cosa faccio, ma c'è una nuova, ma c'è una nuova, Sì, 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 sì. non so eh sono indecisa che può essere questa è più piccola mi piace il colore il barbecue io c'avevo come questa qua la cieretta il termometro questo che cos'è? ah però è troppo trasparente troppo trasparente fedele tappeto vediamo le misure faccio fatica a trovarli sempre è un metro e ottanto per un metro e cinquanta a venti euro questa è carina qua c'è anche l'attacca del telefono 20 euro 20 euro a casetta per mettere dentro i premi 3 euro può essere può essere guarda la ciotola pieghevole troppo grande troppo grande cercavo qualcosa di piccolo questo qua 4 euro questo qua può prendere può prendere le zette a 99 ma che bello che è per fattere a 100 euro a 100 euro per lei per le 60 euro per l'ainte interesse darlare che ci hanno Grazie a tutti. Il bambino c'è questo, 90 e 90 c'è qui. Ovviamente questo lo prendiamo per il carico. Ovviamente bovino. Allora, queste sono cose da freeware, non si capisce, qua, 3 euro, 3,34 euro, questo sono per lavare i vetri, questo che cos'è, per pulire le scarpe, devo trattare il formaggio, 6 euro spostava meno io ne prendevo uno per cali ma tanto io non mi serve molto questo per lucidare le scarpe quanto? 1 euro 30 può essere lascio qua Sì Questa che cos'è? È una cuffia e questo è un bottellino. 2,79 euro. Carino. Non so, 2,79 euro. Questa qua per le unghie. Questa che cos'è? 1,18 euro. Non ho capito che cos'è. Non ho capito che cos'è. Questo è un tè. Questa che cos'è? La mettono sopra, non si capisce che cos'è. Ah, un ciropo. Ciropo di riso. Il 39% di riso e il rosso di acqua. Lo prendo. Stracci. Questa che cos'è? Il sale rosa. Questa. Questa era buonissima. Però non ha lo sconto, mi sa. Era buonissima questa. La sabbia e l'acqua in macchina perché non ce la faccio. Questa è presa un quintale. È saltata. Lei salta sempre su questa sedia per salutarmi. Oggi c'era il gatto. Lui non si è spostata. Si è spostato. E lei è rimasta su comunque sopra di lui. Adesso mi avesse spostato un pochettino lui. Ma prima era qua. Amore mio. Cosa annosi la zampetta di gatto? Annosi la zampettina di gatto? Amore. Ciao. Ciao bro. Amore. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Ma quanto siete belli. Ma quanto siete belli. Ma quanto siete belli. Salutate. Usate va. Ciao.